It's a big, big house, with lots and lots of rooms, a big, big game... Shut up, I'm trying to play video games! Come va vicini di casa? Io sono Big House. Bentornati con il terzo appuntamento di Slender The Arrival. Tra i commenti della scorsa parte mi avete fatto notare che si può combattere, diciamo così, Slenderella, utilizzando la torcia, però... non so, bisogna premere un tasto di qualche tipo perché appuntargliela addosso così non gli fa alcun effetto, quindi devo cercare di scoprire come fare. Premi tutti i tasti. Finora ha sempre funzionato. Questo no. Questo non fa nulla. Tasto sinistro del mouse è per prendere le cose, quindi è impossibile. Oh! Oh, è questo qua? È questo qua? Con questo dovrei riuscire a fermare Slenderella, tenendo premuto il tasto destro così. Eh? La sparaflashiamo con la torcia. Comunque che stronzo, cioè... il gioco non mi ha detto che si poteva usufruire di questa opzione. Chi c'è? Oh mio Dio! E ci siamo! Adesso dovrebbe arrivare a rompere i coglioni. Sono proprio curioso di testare questa cosa della torcia. Eccola che arriva. Eccola che arriva. Arriva! Arriva! Me lo sento! Eccola! Fermati! 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 Oddio, ha funzionato! Non ci credo! Ha funzionato, stai lì! Fermali così! Fermali così! Brava puttana! Adesso fuori dal cazzo. Abbiamo scoperto che funziona e adesso fuori dal cazzo. Qualche problema? Qualche problema? Sparaflashata! Sparaflashata! Allora? Sparaflashata! Oh oh! Adesso sì che ci divertiamo! Sparaflashata! Potrei andare avanti così tutto il giorno. Quarto generatore. E non ho idea di dove sia la puttana. Where are you? Bitch! Oh! Eccoti qua! Non fai più tanto la gradassa adesso, eh! Take this, bitch! Ha ha ha! Dove? 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 Oh! Oh! Eccoti là! Oh ok! Mi stavo preoccupando! Tutti e sei! Tutti e sei ragazzi! Tutti e sei ce l'abbiamo fatta! Sei così sexy! Sei sexy? Dove sei? Forza! 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 Oh! Oh! Ce l'ho fatta! Oh! Ce l'ho fatta! Oh! Cazzo ragazzi! Battete il 5! Yeah! Eat this motherfucker! Ha ha ha! That was easy! Non dirmi che può ancora raggiungermi! Oh non penso! Ok! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Grazie ragazzi! Grazie! Torcia! Sei stata davvero una valida alleata! Di solito mi stai un po' antipatica perché in quasi tutti i giochi horror si esauriscono le batterie e poi non serve più a un cazzo! Però stavolta abbiamo collaborato! Beh diciamo non è che mi stai antipatica tu! Mi stanno antipatiche le batterie che si scaricano sempre! Io non piaccio a loro e loro non piacciono a me e questo è il punto! Wow! Siamo di nuovo fuori! Non ho idea del perché siamo entrati in questo posto del cazzo! Probabilmente era l'unica via per arrivare qui! Su queste belle montagnucce! Wow! Chi c'è qua? Slenderella? Slendy? Chi c'è qui adesso ad aspettarmi? Un nuovo mostro? Qualche altro fenomeno da baraccone? E ditemelo! Perché alla fine l'obiettivo è sempre lo stesso! Non farselo mettere in culo! La torcia non serve più e inutile tenerla accesa! Wow! Fantastico! Oh! Ok! Wow! Ah! E' quella specie di faro di antenna che avevo visto prima all'inizio! Dove dovrei andare? Di qua? Non c'è nemmeno un sentiero! Immagino di dover andare lì! Chi ha lasciato questo robo? Non posso prenderlo! Ok! Qui torniamo a riutilizzare la torcia! Dai, forza! Ditemelo! Odio le brutte sorprese! Chi c'è qua? Slendy? Ancora Slenderella? Ditemelo! Oh! Che cosa succede? Ok! No, perché quando senti bisbigliare le tue spalle e tutto diventa in bianco e nero c'è sicuramente qualcosa che non va! Voglio morire! Voglio morire! Voglio morire! Voglio morire! Voglio morire! Chiunque l'abbia scritto doveva essere una persona molto allegra! Ma mi sta indicando di arrivare all'antenna? Quindi se arrivo là all'antenna rossa è finita, sono salvo! Cos'è sta roba? Un porno? Oh sì, continuo a disegnare con quella patita! Oh sì! Oh sì! Smettetela di camminarmi alle spalle! Non è divertente! Non è una cosa che mi fa piacere! Posso interagire con la tv? Ok, probabilmente questa era la nostra amica Quella che è scomparsa Kate Kate È qui? Oddio, stiamo impersonando Kate? Kate Stiamo impersonando Kate prima del nostro arrivo! Fantastico! L'obiettivo sarebbe quello di chiudere porte e finestre per mettere al sicuro la casa Non che contro Slender possa servire a molto Ho capito! Qui dice di chiudere le porte e finestre ma qua non si chiude un cazzo? Come... Come è possibile? Come faccio quello che mi hai chiesto se poi non mi permetti di farlo? Eh? Ok E una l'abbiamo sistemata Ok Ah, ho capito Ci sono... Ci sono finestre e finestre Quelle che si possono aprire e quelle che rimangono aperte Vabbè Dobbiamo mettere al sicuro la casa Ma cazzo apriti! Stavo dicendo Dobbiamo mettere al sicuro la casa Già che ci sei e chiudi tutto, no? No, alcune le lasciamo aperte Mamma mia Questo gioco Fa una difficoltà in mane a chiudere le porte A chiudere e aprire le porte Forse qui ci torniamo dopo Quando il pianoforte avrà finito di suonare da solo Ah no, è qua il pianoforte! Ok Ok, allora andiamo di là Ehi La mia bellissima auto Arancione Marrone Oh beh La porta del garage che è la più AAAAAAAA Chiuditi, 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 chiuditi Ok Ok, 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 ok 4 di 8 Pianoforte Non uccidermi Ok 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 Bene Non mi piace Oh, Slendy Calmino eh Non c'è bisogno di fare così Qua è la casa Oh, 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 oh Oh Apriti Apriti Ok 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 Dov'è? Dov'è? Ok 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 Aspetta No Ok Ce l'abbiamo fatta Penso Andiamo di sopra Cosa devo fare Cosa devo fare Wow Cioè alla fine non è servito un cazzo Mi fai chiudere Porta e finestra Arriviamo fino a 7 Ne manca una E mi dici Ormai non serve più un cazzo Perché è già dentro Oh, grazie mille Già quando eravamo a 4 di 8 Era dentro Ok Ci siamo visti il filmato Di quello che è successo In poche parole Kate non è stata molto furba E Speriamo di Non commettere gli stessi errori Flashback Momento Flashback 12 The house had to go It can't save me anymore La casa deve andare Non può Non può più salvarmi La casa va lasciata andare La casa deve andare Qualche nota di Kate Non so Secondo Quello che c'è scritto sui muri Se riusciamo ad arrivare lì Siamo salvi Praticamente Sempre fidarsi di quello Che c'è scritto sui muri Non mentono mai Ancora gente che cammina dietro di me Vero? Basta Ormai non me la prendo più Eccoci qua Dentro una caverna Di nuovo Stavolta senza uscita La cosa Non mi conforta per niente Una scatola? 13 Meet me by the street in an hour I have left a list of things to bring with you Incontrami sulla strada in un'ora Ho lasciato una lista di cose da portarti dietro Lascia tutto il resto dietro Ti spiegherò tutto il più presto Ti spiegherò tutto il più presto quando ti vedrò So come sistemare tutte le cose Non dire a Lorene di me CR Chi è CR? Necessi di finire questo Non so cosa stai parlando Oh è tutto rosso È normale? Fo 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 Cos'è? Oh ma insomma Vuoi farmi diventare dal tonico qua? Prima in bianco e nero Poi tutto rosso Ecco perché Oh 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 Che sta succedendo? Perché tutto questo? Au 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 Agustioni di terzo grado Ah merda Cosa vuoi da me? Qual è il problema? Cosa Cosa devo fare? Devo trovare un modo di uscire di qui Però se quello stronzo continua a venirmi davanti È un problema No? AAAAAA The trees are on fire Au The trees are on fire The trees are on fire E' qua Ci siamo Forza Oh merda Au 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 Ok Wow Bastardo Molestatore Piromane Oh Buon Natale Forza L'ho vista E' lì E' qui sopra Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Forza Forza Non mi abbandonare proprio ora Vai 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 Ok Oh 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 Siamo salvi Siamo salvi Non puoi entrare Troia Non puoi entrare You shall not pass Questa porta Ha bisogno di una chiave Va bene Niente di più Fottutamente semplice Oddio è entrato Oh 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 che cazzo è Apri sta porta Apri la porta Ehm Dove sono Ok Adesso è aperta Forza Ma che palle Allora Apri la Trogolodita Ok Cosa Cosa No eh No Questa cazzo di torcia Torcia Perché ti sei spenta Perché ti sei spenta Avevamo un accordo Avevamo appena finito di dire che Almeno una volta avevamo collaborato assieme Che per una volta non ti sei spenta Che non hai esaurito le batterie Perché adesso mi tradisci? Eh? Ehi la Senti anche tu uno strano odore di carne bruciata Senti anche tu uno strano odore di carne bruciata? I can't 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 Who doesn't know I'm so sorry I can't I'm so sorry Cos'è successo? Perché tutto questo? Oh Cos'è stato? Oh 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 What the fuck? Oh no 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 Stai Stai lontano Chiunque tu sia Vai Vai via Non voglio vedere 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 Ok 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 Cos'è sta roba? Cosa devo fare? Non si legge un cazzo di sta roba Ragazzi Ragazzi Vi dispiace se proseguo ad occhi chiusi? Mi sto cagando ad osso Kate Posso tenere gli occhi chiusi? Vi prego Bastarda Lo sapevo che eri tu Kate Alias Slenderella Quella E' finito E' finito Non bene Ma è finito Cazzo Non mi aspettavo Un finale simile Cioè Non mi aspettavo che il finale arrivasse così presto Pensavo di farci Di farci una serie un po' più lunga con questo gioco Però Diciamo che ne è venuta fuori Diciamo che ne è venuta fuori una miniserie Ecco Certo non mi aspettavo Che Che finisse bene In tutti gli altri giochi Di Slender raccoglievi le pagine E poi morivi Qui Abbiamo soltanto ritardato l'inevitabile Va bene Grazie per la visione Iscrivetevi per diventare dei vicini di casa Mettete mi piace E lasciate un commentino Sono indeciso se Continuare con nuovi horror O Anche vecchi Oppure continuare Amnesia Machine 4 Peaks Visto che mi avete detto Che anche lì Siamo prossimi al finale Cioè Si vede abbastanza già Nell'ultimo capitolo Che siamo ormai prossimi Alla fine anche lì Però Io Mi affeziono Ai giochi E una volta finiti Vado in lutto Un po' come è successo in Outlast E Mi dispiace sempre Finire un buon gioco Comunque Non so ancora Se Continuare Amnesia O Fare nuovi horror Ho visto Nei commenti recenti Che Che mi consigliate dei giochi Vi Vi ringrazio molto Se avete altri giochi in mente O anche dei vecchi Di Slender Che Ho già detto più di una volta Che andrò ad affrontare I vecchi horror di Slender Consigliatemi li pure Che me li insegno tutti qua Una volta finita la serie di Amnesia Mi concentrerò su vecchi giochi Soprattutto Cry of Fear Che I molti di voi vicini di casa Me l'hanno consigliato E mi hanno chiesto di giocarlo E Contemporaneamente I nuovi horror In uscita nel 2014 Quindi Con la prospettiva di Nuovi e vecchi horror Ancora da affrontare Vi lascio alla prossima Ciao a tutti i vicini di casa 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 Ciao a tutti i vicini di casa